Oggi vedremo come realizzare una chiave inglese su AutoCAD. Nel primo video vi mostrerò come realizzare questa vista dall'alto, è una vista laterale, quindi solo 2D. Nel secondo video vi mostrerò come realizzare l'oggetto tridimensionale, quindi la chiave inglese tridimensionale. Allora, innanzitutto andrò a tracciare una linea lunga 160. 160 rappresenta la distanza che c'è tra il centro di questo cerchio e il centro della nostra ellisse. Alla fine, diciamo, nel lato destro andrò a costruire successivamente un cerchio con diametro 33 e a fianco qui un quadrato con lato 25. Quadrato che mi servirà tramite il comando serie polare e il comando taglia per ottenere questa parte a stella. Quindi una volta avviato AutoCAD, clicco inizia disegno, disattivo la griglia e attivo orto. Comando linea dalla scheda disegna, partendo da un punto a caso mi sposto verso destra e scrivo 160 e successivamente premo invio. Questa è la mia linea lunga 160, ovviamente sapete già che con la rotellina del mouse possiamo aumentare lo zoom. Comando, sempre dalla scheda disegna, cerchio centro diametro. Il centro del centro è questo punto, il diametro è 33, quindi premo invio. Mi sposto un po', comando linea, lo faccio fuori e tanto poi lo sposto successivamente, clicco in un punto a caso, abbiamo detto quadrato di lato 25, quindi 25, 25, 25 e chiudo. Comando, dalla scheda edita, attivo il comando serie polare, il quale mi chiede di selezionare gli oggetti che voglio copiare. Questo, quindi tutti e quattro gli elementi. Mi sono dimenticato di tracciare una linea per sfruttarne poi successivamente il punto centrale, quindi li faccio serie polare, prendo queste quattro, primo invio, clicco nel punto centrale. Gli elementi non sono sei, ma devono essere tre. Per aggiornare, clicco in una casella a caso, come questa qui, si aggiorna il tutto, associativo deve essere disattivo. Posso cliccare su chiudi serie, comando taglia, primo invio per selezionare tutto come limite di taglio e inizio a tagliare tutte le parti che non mi servono. Io inizio con queste, successivamente prendo i quattro angoli, vediamo che la figura assomiglia sempre più a quella finita. Una volta completata queste operazioni con il comando taglia, primo ESC, posso attivare il comando sposta, quindi sposta, il quale mi chiede di selezionare gli oggetti. Seleziono tutto, primo invio, clicco nel punto centrale della nostra linea e farò coincidere questo punto con il punto finale della linea lunga 160. Ovviamente la linea questa qui può essere già eliminata. Mi sposto dal lato opposto. Allora qui devo costruire un'ellisse con il comando ellisse centro. Ovviamente il centro ce l'ho già perché è rappresentato dalla fine della nostra linea lunga 160. Però devo creare una linea che va da questo punto a questo e sarà lunga 25 perché tutto è 50, quindi la metà è 25. Una linea che va da questo punto a questo e sarà la metà di 55, ossia 27.5. Ovviamente le linee è evidente che sono inclinate. Qui mi dice 17 gradi, si capisce bene che questa linea qui è parallela a questa, quindi vuol dire che anche questa è inclinata di 17 gradi. Quindi questa la farò lunga, abbiamo detto 25, inclinata di 17 gradi. Questa invece è lunga 27.5, inclinata, dobbiamo fare un calcolo molto semplice. Si vede ad occhio che tra questa linea e questa linea ci sono 90 gradi, più i 17, quindi vuol dire che questa è inclinata a 107 gradi. Quindi comando linea, clicco in questo punto e vado a scrivere chiocciola, quindi coordinata relativa, 25, minore di 17 e premo invio. Premo ESC, di nuovo linea, clicco in questo punto, chiocciola, 27.5, minore di 90 più 17, quindi 107 e premo ESC. Dalla scheda di segna, su questa freccetta, trovo centro, ellisse, specificare il centro delle ellisse. Allora il centro è questo, specificare il punto finale, do questo, specificare la distanza dal secondo asse, do quest'altro punto e l'ellisse l'abbiamo creata. Questa linea può essere cancellata, mentre questa ci servirà successivamente per andare a fare l'apertura della chiave qui. Quindi io la prendo, tasto destro, sposta, clicco, la prendo da questo punto e lo faccio coincidere con il centro del nostro cerchio. Andiamo a creare la parte centrale. Allora, noi abbiamo già una linea centrale qui. Questa parte è larga 10, quindi basterà fare un offset verso l'alto e verso il basso di 5. Successivamente farò un nuovo offset di 5 verso l'alto e un nuovo offset di 5 verso il basso di questa linea qui. Quindi offset dalla scheda edita, distanza di offset 5, invio, prendo questa, la copio su, prendo la centrale, la copio giù, prendo quella che ho fatto prima e la copio su, prendo quest'altra e la copio sotto. La centrale non serve più, la cancello. Comando raccorda, perché andrò ad eseguire, vedete qui c'è raccordo 30, cioè tutti questi sono dei raccordi con raggio 30, raggio 30 e raggio 30. Non è specificato, quindi si capisce che il raggio di raccordo è uguale per tutti e quattro i raccordi. Raggio 30, invio e vado ad eseguire quattro raccordi. Con invio ripeto il comando. Ovviamente il raggio di raccordo lo impostate solo la prima volta perché rimane invariato. Perfetto. Quindi tutta questa parte più esterna è stata completata. Quella più interna, per poterla, diciamo, ottenere, andrò a fare un offset dell'ellisse, sempre a distanza 5, lo leggiamo di qui, verso l'esterno, in modo tale da ottenere questa parte, dopo aver fatto taglio ovviamente. Stesso discorso per il cerchio. Farò un cerchio concentrico più grande di 5, quindi sempre con offset. Con offset copierò anche i raccordi, quindi verso l'interno, verso l'interno, verso l'interno e verso l'interno. Infine, dopo aver tagliato e aver ottenuto, diciamo, un perimetro molto simile a questo, l'ultima operazione da fare sarà andare a raccordare i quattro spigoli con il raggio 1. Quindi, offset 5, invio, potevo anche non scrivere 5 invio perché effettivamente era già impostato prima, 5. Faccio un offset verso l'esterno dell'ellisse, faccio un offset verso l'esterno del cerchio, offset verso il basso di questo raccordo, verso l'alto di quest'altro, verso l'alto di questo e verso il basso di questo. Comando taglia, premo invio per selezionare tutto come limite di taglio, inizio a tagliare questa parte e questa parte e anche tutta questa parte esterna del nostro cerchio. Ci avviciniamo un po' qui e andiamo a tagliare questo, questo e poi tutte queste altre linee. Ciò che rimane, perché come vedete rimangono degli elementi qui che non possiamo più tagliare, li andremo successivamente a cancellare. Stesso discorso lo facciamo da questa parte, solo che dobbiamo zoomare magari un po' di più. Tagliate anche questo pezzettino, quindi zoomate un po'. Ok. Queste le seleziono e le cancello, anche questa. Mi sposto dall'altra parte. Cancello queste. Come abbiamo detto, qui dobbiamo raccordare con raggio 1, quindi raccorda, raggio, 1, invio, e vado a raccordare i quattro spigoli. Io sempre con invio o con barra spaziatrice ripeto il comando. Perfetto. Ci manca solo questa parte qui. Adesso quella linea che io non ho cancellato in precedenza, anzi ho spostato, mi servirà per andare a fare un offset di 12.5 sia verso l'alto che verso il basso. Quindi offset 12.5, invio, prendo la linea e la copio verso l'alto, prendo la linea e la copio verso il basso. La centrale non serve più. Comando taglia, invio, taglio questa parte, questa parte e anche questa. Con una linea chiudo qui e vado a fare un offset di 20. Offset 20, invio. Mi sposto qui. Taglia, invio e taglio questi due pezzettini. Ovviamente queste due linee possono essere cancellate. Ho fatto l'offset perché da qui avevo creato una linea, ho fatto l'offset arrivando in questo punto e poi ho tagliato i pezzettini in eccesso. Questo ovviamente è un arco che ha il raggio di 15. Di questo arco ho anche l'inizio e la fine. Quindi andrò a prendere arco, inizio, fine e raggio. Vi ricordo che gli archi si sviluppano sempre in senso anti-orario. Quindi inizio, fine e raggio 15, invio. Perfetto. Questa parte è completa. Quindi magari ci aggiungerò alla fine gli assi di simmetria tratto-punto, magari colorati, di un colore diverso, eccetera, eccetera. Però soffermiamoci un attimo sulla parte, sull'altra vista, che è questa. Allora, la nostra chiave inglese, vediamo di quali spessori, ha questa parte spessa 10, questa parte spessa 10 e questa parte centrale spessa 6. Quindi io mi andrò a riportare i vari punti, ossia questo. Io utilizzo questo metodo. Prendo questo punto e scendo fino a un certo punto, che ne so, 50, 60. Dopodiché vado a digitare nuovamente un valore pari alla lunghezza di questa linea, di 10, in modo tale che poi quelle linee di sopra, che rappresentano le nostre proiettanti, le cancello semplicemente senza andarle a tagliare. Quindi comando linea, da questo punto scendo di 60 e poi scendo di altri 10. Perfetto. Comando linea. Andiamo a fare una linea che va da questo punto fino a qui, tanto poi la tagliamo. Questo era il punto che vi dicevo prima. Anche questa la facciamo più lunga, tanto poi la tagliamo. Prendo questo. Ovviamente io attivo lo snap perpendicolare. Ok, queste due già possono essere cancellate. e quindi vi dicevo prima. E quindi vi dicevo prima. E quindi vi dicevo prima. Comando taglia, invio, inizio a tagliare queste due, queste le cancello. Ok, dovremmo aver proiettato tutto, taglia, invio, vado a tagliare questa parte. Comando linea, traccio una linea che va da questo punto centrale a questo punto centrale, offset, 3, invio, perché questa parte è spessa 6, quindi farò un offset di 3 verso l'alto e di 3 verso il basso. La centrale possiamo già eliminarla, mentre col comando taglia, invio, andiamo a rifinire tutto il resto. Tagliamo questo, questo pezzettino e questo. Stesso discorso dall'altra parte, questo qua e questi due pezzettini. Abbiamo terminato anche questa vista. Volendo aggiungere un dettaglio, possiamo andare ad inserire gli assi di simmetria. Quindi, prima di attivare il comando linea, io cambio il colore, prendo il rosso, vado a caricare uno stile di linea diverso. Quindi, vado in quest'ultima casella, clicco su altro, carica, scendo con il cursore e prendo la tratto punto 2, che è quella con il passo più breve. Premo ok, la vado a selezionare da qui e con il comando linea, partendo dal centro del nostro cerchio, vado verso questa parte. Stiro anche questa, faccio una linea che va da quadrante a quadrante del nostro cerchio, la allunghiamo di 10 e di 10. Comando linea, faccio la stessa cosa qui. La vedete intera questa qui, perché, diciamo, il passo è troppo lungo rispetto a questa distanza, quindi vi mostra solo un tratto di linea intera, ma è comunque tratto punto. Se la stiro, già iniziamo a vedere il tratto punto. Perfetto. Ci manca solo questa parte qui, quindi andrò a rifare le linee che ho creato in precedenza. Perfetto. Chiocciola, abbiamo detto, 25 più 5 la facciamo di 30, minore di 17. Seleziono questa, disattivo, per stirarla in questo caso, disattivo orto, perché è inclinata. La prendo da questo quadratino e cerco di seguire la stessa direzione, come vedete, ecco. E adesso andiamo a digitare 30. Perfetto. Stesso discorso faremo qui. Questa era, chiocciola, 27.5 più 5 la facciamo, 32.5, minore di 107. Stesso discorso qua, la stiriamo seguendo la stessa direzione e scriviamo 32.5. Perfetto. Allora, questo è quello che abbiamo ottenuto. Nel prossimo video vedremo, partendo ovviamente già da questo, quindi non vado a rifare la costruzione 2D, partendo da questo andremo a realizzare la chiave, diciamo, solida, quindi il tridimensionale di questo oggetto. Alla prossima.